un saluto ben trovati alla voce delle istituzioni mio ospite quest'oggi paolo vendramini sindaco di ponte nelle alpi grazie di questa opportunità e grazie a lei per la sua presenza naturalmente iniziamo parlando di un argomento molto importante in queste settimane un argomento che ha un po monopolizzato l'informazione il covid il coronavirus a ponte nelle alpi l'emergenza come è stata vissuta devo dire che è stato un periodo intenso in cui tutta la comunità però ha risposto in modo opportuno rispettando le regole abbiamo creato dei gruppi di lavoro in comune per permettere a tutti i cittadini di avere informazioni immediate attraverso soprattutto i social ma anche con una linea telefonica appropriata era un numero che abbiamo scelto insieme alla protezione civile e poi tutta una serie di iniziative per non lasciare nessuna cittadina e nessun cittadino isolato e solo quindi è stato fatto un lavoro in rete e anche la possibilità di dare contributi attraverso i finanziamenti che sono arrivati dal governo abbiamo dato buoni spesa a 137 famiglie del nostro territorio distribuito in collaborazione con l'istituto comprensivo di ponte nelle alpi i tablet a tutti gli alunni che ne erano sprovvisti per permettere a tutti di partecipare alla dad quindi alla didattica digitale in rete io devo ringraziare veramente tutta la maggioranza del comune di ponte nelle alpi quindi tutti i collaboratori ma anche l'intero consiglio comunale perché si è reso disponibile poi il merito della protezione civile di ponte nelle alpi che ha distribuito per ben due passaggi le mascherine casa per casa diventando un punto di riferimento e devo dire che come sindaco sono sempre stato così ho ricevuto solidarietà da parte dei miei concittadini anche con messaggi davvero messaggi importanti a volte commoventi che mi hanno fatto capire come la comunità di ponte nelle alpi è stata in questo periodo unita e anche dal mio punto di vista un periodo che mi ha arricchito dal punto di vista umano e fatto capire come ponte nelle alpi che trae le radice dal storiche dal cooperativismo dalla solidarietà è davvero una città educativa e solidale vorrei in questa sede così importante così ascoltata ringraziare tutte le associazioni i volontari ma anche i cittadini e le cittadine del del mio comune personalmente ricordo anche un medico se non ero ponte alpino salvador che si è un po ritrovato in prima linea si voglio dire che noi abbiamo in consiglio comunale il nostro capogruppo di maggioranza il dottor fulio de pasqual che ha dovuto dividersi tra i suoi assistiti e l'attività amministrativa ma anche il dottor salvadore che è stato in prima linea nei comuni zona rossa del veneto e quindi anche qui il ringraziamento a lui e tutto il suo staff perché diventano orgogli i pontalpini ma devo dire che anche il mondo del commercio ha collaborato con i negozi di vicinato che hanno aderito le nostre iniziative di spesa a domicilio e anche quelli che non avevano direttamente il covid ma erano in quarantena sono stati seguiti dai nostri servizi sociali una ad uno e quindi il merito ad un'amministrazione che si è tenuta pronta e 24 ore su 24 ha lavorato nel periodo dell'emergenza covid un'altra cosa noi abbiamo avuto una casa di riposo che è stata covid free perché già dalle giornate di carnevale quindi da fine febbraio ha applicato i protocolli che avevamo condiviso insieme e quindi siamo riusciti grazie al personale alla dirigenza della casa di riposo a far sì che non ci fosse nessun contagio e questo anche è un merito e un fiore all'occhiello della nostra comunità chiudiamo dunque questo argomento andiamo un po' più nel dettaglio del di alcuni lavori che stanno venendo eseguiti a ponte nelle alpi area comedil c'è in ballo una riqualificazione cosa sta succedendo cosa si dopo dopo 40 anni l'area era dismessa un protocollo di intesa urbanistico con la proprietà perché lì siamo di fronte a una proprietà privata acquisita dal gruppo cestaro quindi gruppo famila che ha presentato un progetto di riqualificazione che prevede due punti commerciali da 2500 metri quadri ciascuno uno sarà il famila e l'altro l'eurobrico al posto dell'attuale famila che fuori comunque dall'area ex comedil avremo il decathlon l'unico punto commerciale a livello provinciale di questa catena che si occupa di sport nell'ambito di questa riqualificazione abbiamo il miglioramento della viabilità in viale dolomiti con i nuovi marciapiedi la rotatoria che già abbiamo visto essere funzionante per la mitigazione del traffico e la nuova piazza di fronte alla biblioteca civica tra il nuovo famila e diciamo il vecchio famila anche se ancora in funzione sorgerà anche un parco un parco cittadino per attività ludiche ricreative quindi direi nel complesso una riqualificazione importante ponte nelle alpi quindi cambia volto ma ci sono anche opportunità lavorative perché oltremente viene implementato quello che è il personale all'interno di questi due edifici nella realtà commerciale appunto dell'ex comedil bisogna tenere anche in considerazione che dietro l'area comedil sta sorgendo la nuova stazione ferroviaria di ponte nelle alpi che sarà una stazione baricentrica della provincia di belluno con l'arrivo di treni importanti come la freccia argento un investimento di circa 6 milioni di euro di ferrovie dello stato con l'elettrificazione e stiamo anche avendo dei tavoli di lavoro con le ferrovie dello stato perché ci sia un sottopasso che dalla stazione di ponte nelle alpi porta verso l'area sportiva di polpet che è un paese che ha circa 2.500 abitanti e quindi ci sarebbe una migliore fruibilità della stazione e dei servizi anche della corriere dello dolomiti bus sorgerà anche tra la stazione e la comedil una nuova area che è uno scambio gomma rotaia con le corriere che arriveranno e che soprattutto per quanto riguarda cortina ormai 20 22 e anche per le olimpiadi saranno davvero funzionali tra i vari progetti mi accennava ad alcuni lavori sulle piazze del comune si le piazze del comune le piazze sono storicamente un punto di aggregazione sono l'orgoglio anche dei delle frazioni ricordo che appunto nelle alpi ci sono 21 frazioni è un comune abbastanza particolare quindi abbiamo la nuova piazza che sorge di fronte alla biblioteca per il protocollo d'intesa con la comedil è ormai è già definita e in fase di chiusura poi abbiamo approvato in consiglio comunale la nuova piazza di cugnan c'è già uno spazio di stabilizzato dedicato a parcheggio però abbiamo destinato circa 50 mila euro più un contributo regionale per la riqualificazione di quella piazza dal punto di vista anche idraulico e una piazza che potrà essere utilizzata sia come parcheggio ma anche come attività del paese un'altra piazza abbiamo anche qui iniziato il percorso e la piazza di paiane vicino al teatro sarà funzionale al teatro ma anche alla stessa realtà frazionale vi ci sarà la possibilità di fare anche un piccolo parco giochi e attività che la frazione di paiane porta sempre avanti con grande cura ed attenzione a proposito di questo vogliamo parlare quindi un attimo del teatro piero bon il teatro piero bon durante il lockdown i lavori sono stati sospesi abbiamo avuto tre contributi successivi da parte della regione veneto e siamo riusciti a trasformare a riqualificare il teatro dal punto di vista statico ma anche all'interno quindi un teatro che avrà 250 posti a disposizione diventa il quarto teatro della provincia di belluno vorremmo dedicarlo in principal modo alle scuole quindi l'attività di teatro delle scuole ma anche alle associazioni amatoriali che a livello provinciale si occupano di teatro e quindi una opportunità culturale che sarà a servizio di ponte nelle alpi ma anche dell'intera provincia circa 600 mila euro di riqualificazione e di intervento speriamo che presto insomma possa essere usato probabilmente lo dobbiamo inaugurare secondo le distanze le normative sulla sicurezza però noi pensiamo che dal 2021 possiamo liberare le nostre energie con un teatro che ha una capienza importante a proposito di questo ci sono dunque me le citava alcune associazioni che si occupano di cultura come la situazione sotto questo profilo devo dire che tutti i comitati frazionali di ponte nelle alpi sono attivi hanno dei gruppi di lavoro sono in rete anche perché abbiamo una in consiglio comunale abbiamo formato una commissione che tiene in considerazione tutte quelle che sono le istanze della frazione non sono solamente gli asfalti o il tombino ma il decoro urbano ma parlano anche di cultura e di sport e quindi in un periodo così difficile i comitati frazionali ma anche le associazioni sono già in grado nel momento in cui l'emergenza finirà di sviluppare progetti interessanti come ad esempio lo cito l'ecomuseo l'ecomuseo è un'associazione un'associazione di rete anche delle frazioni che tiene in considerazione la storia il recupero e la valorizzazione delle tradizioni ma anche di quelli che sono i simboli delle frazioni non solo i simboli che possono essere la fontana l'ex latteria l'ex cooperativa ma anche le persone che hanno fatto la storia di ponte nelle alpi si citava prima cugnan la figura di bepi de francesca che grande alpinista e che ha fondato la polizia di moena quindi abbiamo tantissime figure arrigo boito a polpette nell'oltre rai c'è la famiglia piero bon che ha dato tantissime persone che si sono dedicate alla cultura ma anche al lavoro quindi voglio dire abbiamo un sedime culturale ma direi anche sportivo che sicuramente ci darà una mano per crescere siamo quasi in chiusura le chiedo una battuta sugli sul piano asfalti e a cadola mi anticipava di dei lavori sui marciapieni sì beh intanto io ringrazio sempre quegli enti che collaborano con noi che sono veneto strade che sono l'anas l'unione montana e la provincia partiranno a breve i marciapiedi di cadola è un intervento atteso da tanto tempo da parte dei frazionisti con la riqualificazione ma anche l'abbattimento delle barriere architettoniche quindi cadola avrà questi nuovi marciapiedi con un intervento di circa 60 mila euro c'è da dire anche che con l'anas abbiamo continui contatti perché dopo la chiusura dei lavori sul ponte di santa caterina stiamo imbastendo il progetto che ci porterà alla passarella ciclopedonale che sorgerà a lato ma anche la rotatoria d'ingresso dell'oltre rai e anche il miglioramento della uscita del dell'autostrada nord pian di vedoia in una battuta sulla sensibilità che hanno i ponti alpini mi ricordo ci sono stati dei ambientali sto parlando della sensibilità ambientale sono stati degli incontri su questo come sono andati? Beh voglio dire che il nostro assessore all'ambiente dottor Pierluigi Dalborgo ha lavorato molto bene ha creato uno sportello dell'ambiente uno sportello delegato a cui stanno partecipando tantissimi cittadini per cogliere quelle opportunità ad esempio per la riqualificazione delle proprie case sotto il profilo ambientale del risparmio energetico è uno sportello che si è aperto anche a tanti altri concittadini che arrivano da fuori provincia quindi abbiamo manifestato all'amministrazione provinciale la necessità probabilmente di aprire questi sportelli e di farli in rete anche con gli altri comuni. Siamo in chiusura ringrazio il mio ospite il sindaco di Ponte dell'Alpi Vendramini ringrazio voi per l'attenzione arrivederci